Oggi è un congresso, un convegno organizzato congiuntamente dagli infermieri dell'ospedale San Donato di Arezzo e dal centro chirurgico toscano, cioè da noi, proprio per sancire il concetto per il quale la nostra città ha fatto scuola in tutta Italia. C'è un problema grosso come la pandemia? La collaborazione tra sanità pubblica e sanità privata è stata tale da attenuare al minimo gli effetti negativi per la nostra popolazione. L'infermiere come protagonista nel percorso clinico assistenziale chirurgico. Questo è il titolo del workshop ospitato dal centro chirurgico toscano e organizzato in collaborazione con l'ospedale San Donato e con l'ordine delle professioni infermieristiche. Devo dire che l'infermiere ad oggi è un professionista tutto tondo perché ha sia normativa di riferimento che afferisce questo e ha delle competenze tali, ha una formazione tale, competenze tecnico-scientifiche tali da poter gestire ed entrare in merito a dei processi di sicurezza. Sempre tenendo ben presente l'obiettivo principale dell'infermieristica, diciamo così, che è la cura, il prendersi cura dell'assistito. Quindi prendersi cura dell'assistito vuol dire anche garantire le condizioni ottimali affinché possa avere delle prestazioni assistenziali sicure all'interno di vari percorsi che possono essere ambulatoriali, possono essere ospedalieri, possono essere al domicilio dell'assistito perché ad oggi, grazie a dei percorsi anche di formazione specifici, l'infermiere va al domicilio. Quindi non si parla solamente di malattia, c'è una trasformazione globale anche del concetto di malattia. La persona assistita può essere stabile e essere in equilibrio anche nel suo stato di malattia. L'infermiere ad oggi è in grado di prendersi in cura di questa persona. Gli infermieri, i medici, tutto il personale sanitario, stamani parliamo di infermieri, devono avere chiaro questo concetto. Il paziente è uguale, e ci mancherebbe altro del contrario, è uguale sia che sia ricoverato in un ospedale pubblico che in un ospedale privato. L'ospedale pubblico forse deve migliorare un po' la sua, definiamo la burocrazia. Gli ospedali privati devono guardare meno al denaro e più alla sostanza della cura del paziente. Questi sono i due difetti che secondo me contraddistingono rispettivamente pubblico e privato. Qui cerchiamo di superarli tutti e due.